Grimaldi, userei l'ultima intervista del nostro amministratore delegato Emanuele Grimaldi che parla di ottimismo. Si definisce una persona ottimista guardando al futuro e al futuro della sua azienda. Per raccontarlo e per dirlo basta pensare a quello che Grimaldi è, un grande gruppo che conta 10.000 dipendenti, 120 navi, un fatturato da 3 miliardi di euro e si potrebbe raccontare ancora tanto. Un gruppo che è posizionato tra le principali aziende per brand reputation. Siamo al sedicesimo posto ed è un risultato importante per ciò che facciamo e questo rappresenta la base, la base per quello che noi siamo, per quello che eravamo e per quello che saremo. Abbiamo scelto un portale online che è leader nel segmento perché Groupon non solo perché è leader ma perché ha una strategia commerciale che è vicina a noi, è giovane, guarda avanti e ha voglia di crescere. In realtà questo per noi è il secondo anno di collaborazione con Groupon e se guardiamo i risultati dell'anno scorso confrontati con quelli di quest'anno sono risultati importanti. Abbiamo più che raddoppiato il volume prenotato grazie alla campagna con loro, anzi con voi e sicuramente ci hanno aiutato tanto a destagionalizzare che per una compagnia che fa traghetti e che ha traghetti tutto l'anno sicuramente un grandissimo successo, saranno sicuramente presenti nel nostro futuro.